Quando è che una coppia è felice? Una coppia è felice quando i due individui sono indipendenti. Dunque noi abbiamo tre sfere. Amore, le relazioni, la salute e il denaro. Quando un individuo è carente di una di queste tre cose, tenderà ad appoggiarsi sull'altra persona. Quindi se un individuo è carente di amor proprio, tenderà a cercare l'amore nell'altra persona. Attenzione, cercare barra rubare è la stessa identica cosa. Il che non vuol dire che una persona non debba amare un'altra persona, ma questo accade se c'è una consapevolezza. Non se questa persona comincia a manipolare questa persona per farsi amare. E questo è un classico delle coppie, soprattutto tra il maschio e la femmina. Se la femmina, per esempio, pensa di avere carenze da un punto di vista economico, cioè di non essere capace a creare abbondanza economica, che tenderà ad appoggiarsi al maschio. Quindi il maschio ti dà quella sorta di sicurezza. Quindi quando il maschio cerca l'amore nella donna e la donna cerca la sicurezza nell'uomo, si fa la frittata. Si crea una coppia dipendente, non indipendente, ma dipendente. Si comincia a creare un quieto vivere. Io faccio in modo che lei non se ne vada. Lei, io faccio in modo che lui non se ne vada. Ma queste due persone saranno sempre abbastanza tristi. Sì, per carità, possono stare insieme anche tutta la vita, ma saranno sempre tristi. Come si risolve questa cosa? Lui deve cercare l'amore dentro di sé. Lei deve capire che può essere capace di creare abbondanza. E allora a quel punto la salute mentale, spirituale e fisica ne ha un giovamento nella coppia. Lei deve capire che può essere capace di creare abbondanza.